Musica Bella a tutti, malordi e malordoni, sono Tommy Zucca e quest'oggi, questa sera, perchè sono le 9, va bene? Siamo su Ghosts e volevo riprendere anche un'altra serie oltre a quella della Strike, della... che cazzo è la Strike? La Cam, signori, mi viene sempre questa cazzo di Strike, porca puttana Ebbene, siamo nella mappa di Ronnies, ossia Strike Zone dove si manciano gli hot dog e io ne vorrei uno, un senape e un goccio di Simobus grazie e siamo tutti ci... che cazzo è spawnata dopo il coso, Cristo? oh, non so che sia qua dietro, quasi tardi oh, oh, eccolo eccolo qui sto usando l'Honey Badger perchè mi sembra l'arma che c'è in sto gioco quindi però, venga, come in MV3 le prossime armone, la prossima classe, me le scrivete nel commento, qui sto quindi lasciate un commento con scritto la classe della Madonna che volete vedere sia quella negra che quella bianca ma che cazzo muori puttana ho fatto una Killstreaks sto usando un altro account muori che stupido sono ucciso sono ucciso che è sto coso? beccate ahhh bel modo per distruggere i Satcom rega, mi piace troppo fa' sta mossa guarda, sembro un cazzo di coso ok ma dove sale quello? trickshot bella quindi dicevamo oh guarda tutti sti stronzi che stupido che so c'è sta la quote ma sto negro sto negro guarda dove spunca oh crepa stronzo è troppo forte sono troppo forte cioè io già so quando uccide mi metto già a ricaricare rega arcane faccio ma se arrivo all'elicotterista motociclista figa è morto è presa cazzo è morto è presa è presa è campus è presa è via buttiamo il cane che mi pare un po' guarda oh 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 ti marco non va fatto male oh 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 uno stronzo che l'ho visto con la coda dell'oggio 12 di fila rega sto a fare kill strikes ma il cane non mi uccidere cazzo cazzo sono troppo emozionato guarda come è zanno merda merda cazzo ho fatto neanche stavo sparando l'ho già ucciso troppo forte sta classe rega pigliatevela pure voi perché qua ci sta le fino minchia rega 34 wow vabbè rega bella a tutti killcamps bella ah dimenticavo scrivete un commento con la classe futura bella